Allora, salve a tutti cari mesci, sono sempre il ricercatore Emiliano Babilonia, voglio ricordare che dal 10 febbraio del 2001 vengo spiato dai servizi segreti militari italiani attraverso i satelliti spia e le alte tecnologie, mi intercettano le frequenze neurali attraverso un elettroencefalografo trascranico utilizzato da satelliti spia in orbita bassa sperimentali che servono per degodificare attraverso le armi psicotroniche determinate frequenze del cervello per creare dei stati ipnotici, narcoletici, disonambulismo e cambiamento delle decisioni del nostro ragionamento logico perché ci mettono delle frasi di ragionamento che servono per destabilizzare le nostre reali decisioni, i nostri reali pensieri. Sembra un film di fantascienza ma vi dico dopo oltre 500 interviste di testimonianza effettuate e registrate da me e pubblicate sui miei canali Angeli Custodi MK Oltre Italia e sul mio secondo canale Emiliano Babilonia con la fotografia che c'è l'occhio nero oppure sulla mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker vi posso dire che questa tecnologia che viene citata da milioni di persone a livello mondiale perché vengono sottoposte attraverso il sistema del controllo mentale alla manipolazione radiocognitiva alle frequenze neuroniche infrasoniche e frequenze fotoniche perché penetrano nei nostri occhi nei nostri condotti uditivi e nel midollo spinale. Infatti la maggior parte dei collegamenti che vengono effettuati per la manipolazione mentale viene effettuata proprio all'interno del collegamento del midollo allungato. Io rilevo determinate frequenze che mi creano determinati disturbi perché sono considerato un elettrosensibile oppure rilevo frequenze extrasensoriali non percepibili dall'unità centrale di elaborazione dei dati dell'elettroencefalografo trascranico satellitare di mafia militare e terroristi militari che effettuano degli esperimenti a larga scala per manipolare milioni di persone nel territorio nazionale italiano e in tutto il mondo per andare agli ospedali, per acquistare biglietti della lotteria, per fargli giocare alle macchinette, per creare vari tipi di dipendenza che possono far guadagnare miliardi di euro a determinate lobby o determinate società o determinate massonerie industriali che operano con il sistema della divulgazione oppure della pubblicazione di determinati parametri relativi ad accordi nazionali e internazionali che vengono poi associati a questi reparti operativi deviati. diciamo sono chi comanda questi reparti è come se fosse Hitler e chi comanda chi fa gli esperimenti militari per controllo della mente a distanza è come se fosse Mengel il dottore della morte di Hitler. Praticamente queste persone sono dei mercenari, sono servizi segreti mercenari, il loro lavoro è fare esperimenti su cavi umane, il loro lavoro è proteggere chi fa esperimenti su cavi umane e il loro lavoro è creare la depopolazione a livello mondiale attraverso queste sperimentazioni e collaudi che vengono effettuati per attestare i super satelliti di spia, le super armi spaziali, armi spaziali perché sono in orbita intorno alla terra, sono satelliti di spia geostazionari che sparano radiofrequenze nel cervello sul corpo delle persone per creare gravissime patologie fisiche e psicologiche. Infatti le industrie farmaceutiche guadagnano dal 300 al 400% in più da quando in Italia i servizi segreti di mafia militare e di terroristi militari hanno incominciato ad utilizzare questi tipi di armamenti. Parliamo che l'attestazione e il collaudo di queste tecnologie si parla dagli anni 70, da quando hanno messo i primi satelliti spia in orbita sopra il territorio nazionale italiano e da lì hanno incominciato i collaudi per creare la tossicodipendenza nel territorio nazionale italiano per creare la dipendenza forzata al gioco, dipendenza forzata alle droghe, dipendenza forzata ai farmaci perché così hanno potuto incrementare un 300% in più di persone che potevano essere pilotate a acquistare farmaci, acquistare sostanze stupefacenti, ad acquistare magari i biglietti della lotteria eccetera 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 eccetera. Gradio controllo è un sistema terroristico militare che viene utilizzato dai servizi segreti sovrastituzionali per pilotare la massa e costringere la massa a pensare ad acquistare ad avere patologie indotte per poi far vendere ovviamente i vaccini per miliardi di euro. Io sono stato fermato dalla Gendarmeria Nera di Roma e vi dico che anche la Gendarmeria Nera di Roma il 10 febbraio del 2001 sono stati pilotati per un esperimento militare per controllo della mente a distanza attraverso i satelliti spia con manipolazione radiocognitiva e dopo due giorni sono stato collegato a forza a un sistema sincronico. Il sistema sincronico che cosa significa e cosa vuol dire? Che i servizi segreti ti sparano delle frequenze sul corpo per creare una scansione tridimensionale scansione biometrica nel nostro corpo per far sì che la telecamera satellitare ha una telecamera a radiofrequenza, multifrequenza spettrale che vede in determinati moti il raggi X, vede come il body scanner oppure vede come i check-in, le macchine RX dei check-in dell'aeroporto frequenze organiche e frequenze inorganiche. Questa telecamera ci spara sul corpo, ci vede, ci visualizza loro digitalizzano il nostro corpo e la telecamera ci segue in qualunque posto dove noi andiamo. Questo si chiama tecnologia di spionaggio sulla popolazione italiana. Non esiste per questi servizi segreti deviati la privacy, non esiste per questi servizi segreti deviati che queste radiazioni a lungo andare creano danni devastanti al nostro metabolismo, danni devastanti al nostro cervello, danni devastanti alle nostre frequenze di rigenerazione. Quando io sento molte persone che dicono ah fai lo yoga, fai di qua, fai di là e io gli dico a queste persone allora io adesso vi metto in un microonde, accendo il microonde e poi vi dico fate lo yoga vedete se ve li stabilizzate e non ve li stabilizzerete mai perché il microonde spara delle frequenze che incomincerebbero a bruciarvi dentro e tutto questo viene creato attraverso un sistema di controllo, di spionaggio di uno stato sovra istituzionale. Pensate che noi abbiamo carabinieri, poliziotti, finanzieri, persone dell'esercito, persone delle guardie giurate eccetera 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 che sono venuti da noi per chiedere aiuto perché venivano attaccati con queste armi e con queste tecnologie. Quindi questi servizi segreti deviati, mercenari operano indisturbatamente attraverso un sistema di radiocontrollo che spia anche le forze dell'ordine della magistratura perché noi ci chiediamo com'è possibile che in Italia centinaia e centinaia di vittime stanno portando le denunce da tutte le parti e nessuno fa niente per bloccare queste sperimentazioni e questi collaudi di queste armi satellitari. vuol dire che c'è qualcuno dei servizi segreti deviati che dà mazzette su mazzette in nero a questi militari per far sì che questi militari non debbano far partire indagini e operazioni sui target individual che vengono attaccati con le armi satellitari. Infatti ai servizi segreti deviati gli interessa far partire delle false indagini da mafia militare su di noi perché così possono giustificare se qualcuno fa qualche indagine ma com'è che questa persona gli sparano addosso queste frequenze o è collegato con il satellite e qualcuno dirà perché questo chissà chi è questo è un terrorista mafioso chissà chi è questa persona ma in realtà oppure bloccano chi sta facendo iniziare le indagini su di noi e gli dicono che sono cose di stato e che nessuno si deve mettere in mezzo allora quei reparti non possono più fare niente perché voglio ricordare che chi coordina questi servizi segreti deviati è un generale che ha tre stelle e quindi questo generale a tre stelle viene definito il direttore generale di determinati posti dei servizi segreti deviati e viene considerato il numero uno relativo ai sistemi di intelligence e contro spionaggio che opera attraverso le tecnologie di controllo manipolazione e collegamento dei target individuals nel territorio nazionale agliano e mi dissero una volta come dissero anche ad altre vittime attraverso le comunicazioni neurali che sono comunicazioni infrasoniche che loro erano lo stato sopra istituzionale che loro potevano fare quello che gli pare come gli pare quando gli pare che nessuno gli poteva dire niente perché loro prendono ordini dai nuovo ordine mondiale e dalla massoneria mondiale praticamente da persone che stanno sedute all'interno di una stanza che prendono ordini e decisioni di come far arricchire quello stato e di come far crollare uno stato oppure prendono le decisioni come creare pandemie oppure come arricchire quello stato facendogli prendere degli appalti o portando lo stato in circoli di appalti multimiliardari internazionali che possono praticamente arricchire società multimiliardari e magari società che creano tecnologie spaziali che potrebbero essere società di copertura perché i servizi segreti deviati gli servono delle coperture di stato o coperture sopra statali per poter far girare questi soldi se ai servizi segreti deviati gli dai l'alta tecnologia e con l'alta tecnologia possono manipolare i cervelli delle persone per fargli acquistare la maglietta gialla ti faccio un esempio una maglietta gialla con le pallette nere che non si comprerebbe mai nessuno loro che fanno aprono delle società con i soldi dello stato e incominciano a creare magliette gialle con i pallini neri come le magliette vanno in commercio nessuno se le compra dice ma che è sto schifo di maglietta ma chi se la compra la maglietta del genere allora i servizi segreti deviati che fanno manipolano il cervello delle persone per farsi di acquistare queste magliette e loro quando vedono la maglietta siccome gli vengono distorti determinati parametri cerebrali diranno oddio quanto è bella quella maglietta tanto a loro gli interessa che la maglietta venga acquistata a larga scala a livello mondiale ma dico questa cosa potrebbe essere fatta anche per un telefonino potrebbe essere fatta per una vettura potrebbe essere fatto per acquistare i grattevinci per acquistare per giocare a forza superenalotto per giocare alle macchinette tttt dentro le sale giochi per acquistare sostanze stupefacenti per acquistare psicofarmaci per acquistare vaccini perché ci sono persone che credono che se vaccinano tutta la famiglia loro si salvano da determinate influenze ma in realtà non è così perché vengono pilotate anche le influenze attraverso questi sistemi di controllo e manipolazione mentale ve lo posso dire perché l'hanno fatto con me centinaia di volte e l'hanno fatto alle vittime del controllo mentale mentre io che stavo vicino e addirittura io rilevavo delle eliminate frequenze e queste vittime dicevano che rilevavano anche loro determinate frequenze e credevano che erano presenze all'interno della stanza presenze come se c'erano entità che stavano lì per creargli dei danni ho detto ma quale entità detto questi sono servizi segreti deviati stacchiamo la corrente ti faccio vedere che queste frequenze minimo il 50 per cento scompaiono stacchiamo la corrente elettrica il 50 per cento delle frequenze scompaiono io ho detto ha visto che c'avevo ragione mettiamoci sul balcone vediamo che cosa succede preso la ragazza si è messo sul balcone ah c'è ragione è vero diminuiscono allora che fa l'entità sul balcone c'è c'è dentro casa e l'entità sa che noi accendiamo la corrente spingiamo la corrente c'è qualcosa di strano invece l'arma d'energia diretta ad onda convogliata radio satellitare deve sparare radiofrequenze per entrare dentro la nostra abitazione perché ci devono vedere con le telecamere elettromagnetiche a frequenze scalari millimetriche con sistemi che vedono sia le frequenze della le frequenze termiche che sia le frequenze elettromagnetiche perché così loro possono poi amplificarsi all'interno della rete elettrica di casa e creare patologie amplificate come se utilizzano determinati sistemi che stanno dentro casa per amplificare le patologie che ci non creare sul corpo però c'è questo da dire che non tutti rilevano queste frequenze se io sto dentro casa con i miei parenti e sparano le alte tecnologie le frequenze d'onde convogliate delle armi ad energie dirette loro sanno che da questa frequenza questa frequenza dove vengono sparate le onde elf per il controllo e la manipolazione mentale le vittime che rilevano questi parametri rilevano l'attacco con l'arma d'energia diretta satellitare allora rilevando l'attacco la vittima sa che stanno per attaccare e che sta e rileva l'attacco della frequenza che viene sparata sul corpo ecco perché noi siamo scomodi in certi posti di lavoro perché se noi target individual ci mettevano all'interno dell'intelligence o la sicurezza nazionale noi questi qui fidatevi che non stavano più all'interno di mafia militare o all'interno di terroristi militari perché una volta che li prendi con questi sistemi satellitari gli fai la stessa cosa che fanno i target individuals ma non lo fai come fanno loro per anni fai un giorno solo e poi gli dici tutte le mazzette che avete preso in nero e tutti i stipendi che avete preso in nero che vanno dato tutti questi anni prendete i soldi e l'andate a dare ai poveri perché voi non vi meritate tutti questi soldi e questo perché voglio essere buono voglio essere una persona che li vuole recuperare in un certo senso perché ci sono vittime del controllo mentale che hanno detto che se prendono i servizi segreti deviati che gli attaccano con queste frequenze con questi sistemi radar satellitari che gli ammazzano davanti alle postazioni e fanno bene perché i terroristi militari e i mafiosi militari non devono fare del gastro quelli sono terroristi e mafiosi militari dovrebbero essere trattati come loro trattano le cavie umane lo sapete quanti bambini hanno ammazzato questi quei satelliti lo sapete quante mamme di famiglia incinta hanno fatto suicidare questi quei satelliti lo sapete quanti carabinieri poliziotti finanzieri persone dell'esercito marina aronatica hanno fatto sparare in testa con la persona di ordinanza quindi non si meritano clemenza non si meritano manco nel gastro devono essere trattati come loro hanno trattato le persone che hanno fatto morire io perché voglio essere una persona buona ridate ristituite i soldi che avete preso li date ai poveri o li date per le vittime del controllo mentale per aiutarle e si cerca di trovare una soluzione perché in italia purtroppo la magistratura avete quello che i servizi segreti gli vogliono far vedere quello che i reparti operativi gli vogliono far vedere perché dire che ancora pedinano la gente con la micro spia dentro casa e con la telecamera dentro casa quando hanno trovato l'acqua su marte con satellite chi creda ancora a determinate bagianate vuol dire che sono persone pilotate col controllo mentale perché i satelliti spia servono per spiare le persone e l'intelligence usa satelliti spia ma non per spiare le persone si inventano che sono indagini preventive guarda che spionaggio no 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 indagini preventive per far sì di deviare il sistema che loro utilizzano per spiare tutti i target individuals quando io ho portato le 26 denunce in questi anni al tribunale di roma caserme eccetera eccetera molte persone che conoscevano perfettamente che cosa stavo denunciando mi hanno detto si rende conto che cosa sta denunciando sì addirittura alcune caserme non mi hanno manco preso la denuncia perché mi ha detto un marisciallo io non posso prendere la denuncia perché potrebbero essere dei reparti nostri che stanno facendo questo io ho detto a me i reparti vostri mi possono attaccare con le armi ad energie dirette mi possono sparare in testa le frequenze le radiazioni mi possono fare lavaggi del cervello e torture con interrogatori tutta la notte per anni e secondo lei è legale questa cosa è tutto illegale l'uniche cose che possono utilizzare per controllarmi sono intercettazioni telefoniche che me ne frega intercettami i telefoni quanto vuoi tanto l'ho denunciato le intercettazioni ambientali fai le intercettazioni ambientali quanto vuoi quanto te ne pare però lo devi fare con i microfoni non con le radiofrequenze satellitari o con i microfoni laser satellitari vuoi petinarmi? petinami quanto te pare non me ne può fregare di meno io non so un criminale quindi a me non me ne frega niente che te mi petini mi vuoi controllare mi vuoi fare le fotografie vuoi vedere dove sto quello che faccio avete fatto venire decine di persone all'interno di un posto dove io vado e vado a lavorare vado a fare beneficenza volontariato per le vittime del controllo mentale mi metto davanti ai computer parlo con le persone prendo dati dal web e dalle altre persone che stanno collaborando con me e poi facciamo video preparo interviste preparo interviste testimonianza eccetera 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 quindi tutto questo non è un lavoro è beneficenza perché io non opero manco più con un'associazione adesso sono un autonomo un ricercatore indipendente autonomo a target individuals che viene attaccato con le armi ad energia diretta ad onde convogliate attraverso satelli di spia in orbita bassa dai reparti operativi speciali dei servizi segreti militari italiani non sono i vicini di casa non sono i zingari sotto casa non sono persone che ci stanno vicino sono persone che stanno molto lontano da noi in posti ultra segreti che vedono dove noi stiamo perché ci vedono attraverso la tracciatura triconometrica tridimensionale della triconometria satellitare attraverso la tecnologia gps quindi sanno che noi stiamo in quel posto a quell'ora che ci stiamo spostando che siamo dentro casa che stiamo a destra che stiamo a sinistra però c'è un però un però perché i target individuals vengono individuati e gli dicono in testa i servizi segreti deviati noi ti vediamo sappiamo dove stai stiamo vedendo quello che stai facendo oggi ti metti la mutanda rossa la mutanda nera la mutanda verde ma quando ci sono stati l'attentato di falcone borzellino degli onorati falcone borzellino perché le bombe non l'hanno viste ci ho sempre pensato a questa cosa perché quando c'è stato il sequestro al domoro non hanno trovato al domoro quando c'è stato l'attentato terroristico al papa che quella persona si è travestito da da prete da sacerdote entrato all'interno del vaticano e ha sparato al papa a papa voitila perché non c'erano i satelliti perché non hanno fermato questa persona che stava facendo questo reato che strano perché non fermano i carichi di cocaina i carichi di droga che entrano in italia e ne entrano a tonnellate 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 perché non le fermano ne fermano solo alcuni invece altri no strano è perché non trovano i lati tanti non ve lo siete chiesti perché non ve lo dico io stato servizi segreti forze dell'ordine forze armatere questi non sono questo questi sono servizi segreti sopra istituzionali vuol dire che tutto ciò che è la legge italiana per loro non esiste perché non esistono come reparti non esistono sono reparti segreti sono come l'ex gladio p2 sti behind sifar non esistono dopo 50 anni sono usciti fuori che esistevano questi tipi di reparti totalmente illegali e totalmente e facevano cose illegali per la costituzione per le leggi italiane per le leggi del codice penale italiano quindi questi deviano anche tutto ciò che sono reati che possono essere inseriti nel codice penale infatti i servizi segreti deviati hanno levato due reati molto importanti in italia il primo reato esperimenti su cavie umane non esiste in italia il reato di esperimenti su cavie umane solo in caso di guerra può essere messo questo reato il secondo reato è stato tolto dal codice penale e adesso è stato rinserito ma in circostanze lievi cioè nel senso che se una persona delle forze dell'ordine fa un tipo di reato del genere la persona non è proprio condannabile cioè non la condannano come se lo fa un civile perché c'è qualcuno che non ritiene questo reato importante ma avete capito perché? perché i sistemi radiosatellitari e chi opera attraverso sistemi di intelligence e controspionaggio quelli veri quelli onesti eh se vedono quello che stanno facendo a migliaia di persone io voglio ricordare che ci sono i figli dei carabinieri che potrebbero essere collegati con i satelliti eh i figli dei finanzieri che potrebbero essere collegati con i satelliti i figli dei poliziotti collegati con i satelliti e gli creano determinate patologie io vi dico che ho le testimonianze andate a vedere sui miei canali di persone militari che vengono attaccate con queste armi sono state buttate fuori dalle forze dell'ordine forze armate eccetera eccetera perché hanno detto quello che stavano subendo e praticamente dopo hanno fatto determinate testimonianze perché hanno detto noi abbiamo denunciato ai nostri superiori quello che ci stavano facendo con queste armi satellitari i nostri superiori invece di provvedere ad andare a vedere chi utilizza questi satelliti addosso a queste persone in divisa l'hanno presi e l'hanno mandati a fare un l'hanno sospesi dal lavoro e li hanno mandati dallo psichiatra pensate un po' l'ignoranza di determinate persone all'interno di determinati posti oppure queste persone potrebbero conoscere queste tecnologie e i servizi segreti dall'alto gli dicono se viene un carabiniere in poliziotto un finanziere e ti marca visita e ti dice perché mi parlano in testa con i satelliti oppure mi attaccano con i satelliti o mi creano dei danni attraverso le tecnologie satellitari voi dovete negare tutto, non esistono i satelliti, non esistono queste tecnologie hai problemi, ti devi far vedere, stai fuori di testa e ti mandano immediatamente allo psicologo e allo psichiatra perché? perché lo psicologo e allo psichiatra militare viene avvisato di sua volta da determinate persone e le patologie che loro vi mettono in testa sono le prime patologie bipolarismo, schizofrenia, uditori di voci, elettrosensibili, esaurimento nervoso e me coglioni i servizi segreti mi parlano in testa 24 ore su 24 minacciandomi, facendomi stalking continuo sollecitazione e istigazione al suicidio in continuazione mi creano danni, mi pilotano tutto quello che ho intorno tutte le persone a me stanno intorno oppure pilotano a questi poveracci tutte le persone a me stanno intorno, gli creano danni, manipolazioni gli mettono le frasi, dei pensieri delle persone o una persona dice adesso questo ti dirà questa frase cioè ce ne rendiamo conto e questi devono stare zitti perché se vanno a marcare visita ah sei malato di mente, sei pazzo, sei schizofrenico questo è il tratamento della caserma di carabinieri ho portato la denuncia la denuncia non denuncia persone io denuncio solo tecnologie denuncio una tecnologia do la denuncia gli dico quando posso passare per il numero di protocollo della denuncia passi fra una settimana dieci giorni ok passo fra una settimana dieci giorni volevo sapere il numero del protocollo della denuncia perché devo andare al tribunale a richiedere la denuncia stava dentro a un cassetto non era stata ancora protocollata dopo la quarta volta che sono andato alla caserma la denuncia la protocollano e mi danno il numero di protocollo perché io dicevo che andavo al tribunale e non trovavo il protocollo della denuncia scende il carabiniere che era pure mi pare una persona graduata e mi dice si vede che sono gli alieni che ti controllano con queste tecnologie e si è messa a ridere e io ho detto ho detto non credo proprio che siano gli alieni perché io ho visto una volta un monitor all'interno di una macchina dove si vedeva perfettamente che utilizzate una tecnologia satellitare per determinate cose allora questa persona si è presa e se ne è andata via io non voglio mancare di rispetto alle persone delle forze dell'ordine alle persone delle forze armatiche rabbiniere di polizia guardia di finanza perché so quello che gli fanno sparandogli queste frequenze addosso creandogli dei danni perché i servizi segreti sovra istituzionali sono dei mercenari quelli non gliene frega niente se quelli gli dicono col satellite dovete ammazzare centomila carabinieri centomila poliziotti centomila finanzieri quelli che dicono mi devi dare tutti questi soldi quelli che danno i soldi e quelli che ammazzano tutti non gliene frega niente siccome so che sono come Hitler e so che sono come Menger l'angelo della morte cioè il dottore della morte che ha ammazzato centinaia di bambini facendo esperimenti e quello non gliene fregava niente di quello che succedeva all'interno di determinati posti anzi godeva vedendo i bambini che soffrivano quindi questi fanno la stessa identica cosa questi so peggio dei terroristi quelli veri so peggio dei mafiosi quelli veri perché a questi non gliene frega proprio niente questi pensano solo a guadagnare soldi su soldi su soldi stando con una divisa addosso piena di sangue che gli cola il sangue su questa divisa ma parliamo che è una divisa che loro non meritano di avere perché questa divisa gli serve solo per copertura militare non gli serve per il lavoro che loro fanno perché il giuramento che viene fatto è per difendere la patria per difendere i cittadini italiani per difendere le persone che stanno nel territorio nazionale italiano non gli dicono ti devi mettere la divisa perché devi ammazzare centomila bambini perché non possono essere collegati con le altre tecnologie e perché non li puoi pilotare con il controllo mentale a distanza questa è la verità perché ieri sera quando mi hanno pilotato la notte tutta stanotte mi hanno attaccato con le armi ad energie dirette tutta stanotte fino alle 6 di mattina ci sono ci sono le telefonate che ho fatto dove io dico tutti i dettagli degli attacchi che mi stavano facendo in tempo reale vengo attaccato il loro motivo è che vengo attaccato con le armi satellitari perché aiuto le vittime del controllo mentale perché aiuto le persone in difese perché aiuto mi viene un poliziotto Riccardo quando è venuto da me dice mi stanno attaccando queste armi non so come fare è venuto quello dell'esercito dice io sono andato in missione all'estero come sono ritornato in Italia mi hanno attaccato con queste armi mi parlano in testa l'ho detta ai superiori mi hanno sospeso dal lavoro dei militari cioè ce ne rendiamo conto che questi militari non possono manco andare a dire ai loro superiori sento questo mi attaccano con questo ma la difesa nazionale ma dove sta ma l'intelligence italiana ma dove sta cioè si preoccupano del cyber spionaggio che coi satelliti spiano determinate persone o addirittura che vengono utilizzati dei virus governativi o sopra governativi che creano danni a determinate società o determinate strutture ma nessuno pensa che stanno morendo centinaia di persone e non si capisce per quale motivo nessuno pensa che ci stanno centinaia di incidenti stradali da gente e non si capisce come fanno a fare questi benedetti incidenti l'altro giorno mi hanno addormentato io stavo facendo un video ho fatto così l'altro giorno stavo davanti a un posto c'era una biblioteca sono entrato dentro gli ho detto vi posso mettere un attimo col computer mi sono messo un attimo col computer mi sono seduto ad un certo punto ho sentito la porta che si chiudeva io mi ero addormentato addosso al muro mi era addormentato addosso al muro non mi era accorto di niente la gente è entrata è uscita dalla stanza e non mi sono accorto di niente e se sto in macchina che succede e se mentre io sto in macchina addormentano qualcuno che sta in un tir per farlo venire addosso a me e se addormentano i piloti dei delle frecce di colore che succede e se addormentano i piloti di linea mentre stanno in volo che cosa succede mettiamo che mentre il comandante generale è un'ipotesi questa mentre il comandante generale dell'arma di carabinieri sta con l'autista sulla strada o su un'autostrada per andare a qualche posto magari importante questi quei satelliti che sparano in testa al guidatore all'autista del comandante generale dell'arma di carabinieri e questo qui prende sbanda e va fuori strada chi difende il comandante generale dell'arma di carabinieri da questi attacchi satellitari chi difende il presidente della repubblica metti in caso che il presidente della repubblica sta con l'autista sta camminando andando da qualche parte gli creano uno stato di blocco di sonnolenza forzata e si schianta da qualche parte chi difende il presidente della repubblica chi difende determinate il capo di stato maggiore della difesa chi lo difende esistono armi una sicurezza che è in grado di difendere queste persone lo sapete che cosa stavo progettando nel 2003 2003 2004 2005 2006 2007 l'interforce spaziale l'interforce satellitare a quei tempi adesso tutti i stati del mondo che cosa stanno facendo dopo 15 anni che io progettavo questo che cosa stanno facendo tutti l'interforce spaziale ma guarda per proteggersi da attacchi terroristici militari con armi satellitari o armi ad energia diretta ad onda convogliata ma guardate l'ho pensato io nel 2003 fino al 2007 come progettare questo sistema adesso nel 2017 2018 si incomincia a parlare dell'interforce spaziale nel 2020 Trump spende 2000 miliardi di dollari per creare l'interforce spaziale per proteggersi da attacchi di spionaggio e attacchi terroristici militari con le armi spaziali ma guardate che strana cosa io non è che sto dicendo un segreto d'estato io sono andato poi a vedere le notizie che sono uscite siccome ormai sono uscite queste notizie l'interforce spaziale la stanno creando allora io ho solamente ridetto quelle notizie che io ho letto sui vari sui vari soci canali sul sito dell'arma di carabinieri c'è scritto via libera ai pedinamenti satellitari c'è scritto non è che lo sto dicendo io sto dicendo un segreto del stato sto dicendo quello che ho letto sul sito dell'arma di carabinieri se voi andate a studiare determinate tecnologie e determinati sistemi e vi andate a vedere determinati documentari echelon è la prima struttura radoma che opera attraverso un sistema di 3000 satelliti a livello mondiale e questi 3000 satelliti si interfacciano con tutti i dispositivi satellitari delle reti dati di ogni sistema possibile e immaginabile attraverso un sistema di controllo e di spionaggio che in realtà loro dicono che è un controllo preventivo ma in realtà il controllo e spionaggio che viene utilizzato per intercettare decodificare bagliare attraverso un programma di analisi si chiama programma che viene gestito dagli analisti dell'intelligence per capire vedere e trovare i target individuals prima trovavano le persone scomode adesso devono trovare prima i target individuals che rilevano queste radiazioni dello spionaggio che viene effettuato sull'Italia e sull'Europa e in tutto il mondo e dopo fatto questo loro devono operare per lo spionaggio e inventarsi che i target individuals sono dei criminali dei mafiosi terroristi eccetera eccetera così giustificano o che siamo pazzi e malattinamente se non riescono a creare o farci credere che siamo pazzi e malattinamente allora fanno credere che noi siamo dei terroristi mafiosi e narcotrafficanti così ci mettono in un sistema e qualunque persona va a vedere questo sistema e dice ma perché vuoi stare puntando questo è un criminale ma siete sicuri che è un criminale questo è un criminale sono partite delle indagini perché questo è criminale ma non è così loro devono coprire in qualche modo le sperimentazioni e collaudi che fanno con i satelliti attraverso false indagini infatti c'è un'antimafia deviata che copre gli esperimenti militari come li copre inventandosi false indagini l'antimafia deviata prende ordini dai servizi segreti deviati perché perché un indomani l'antimafia deviata viene promossa e spostano questi dei servizi segreti deviati a questi del mafia di mafia militare l'antimafia deviata che è mafia militare li prendono li spostano ai servizi segreti militari hai capito qual è il giochetto se prendono a mafia militare prendono mazzette di 5 10 15 20 30 40 50 mila euro quando passano ai servizi segreti deviati sopra istituzionali che sono terroristi militari le chip sono stratosferiche quelli si fanno 4-5 anni dentro terroristi militari nei servizi segreti sopra istituzionali questi se ne vanno in pensione ricchi sfondati e nessuno che dice niente con liquidazioni stratosferiche che non vengono pagate direttamente dallo Stato perché questi sono furbi perché lo Stato dice io ti posso dare una pensione che è più alta dello stipendio che ne sono il Presidente della Repubblica no li fanno diventare dirigenti di società multinazionali che stanno in Italia poi quelli lì risultano che vanno in pensione non come persone militari vanno in pensione come dirigente della società spaziale e il dirigente della società spaziale vuol dire che i contributi vengono pagati dalla società spaziale e questo quando va in pensione va in pensione magari a 100.000 200.000 300.000 500.000 al mese e loro dicono ma non è uno stipendio dato dallo Stato questo è uno stipendio che l'ha dato una società privata e ti hanno fregato oppure versano i determinati soldi e far credere che determinati contributi vengono versati a determinate società e magari versano la pensione all'estero e questi hanno un vitalizio a vita di centinaia di migliaia di euro e questo è il loro giochetto o addirittura certi prendono milioni e questo è il loro giochetto quindi far credere che noi target individuals siamo malattimemente è un giochetto dei servizi segreviati se non riescono a farci credere questo ci mettono false indagini e chi gestisce queste false indagini mafia militare che sarebbe l'antimafia deviata che questi prendono mazzette all'interno dei minori posti per far credere che noi siamo criminali ma noi non possiamo essere criminali perché se veniamo attaccati con i satelliti veniamo attaccati con le altre tecnologie e siamo elettrosensibili e abbiamo sempre disturbi relativi alle frequenze dei satelliti e noi ce ne accorgiamo perfettamente che non possiamo fare determinate cose ma siccome lo spionaggio a larga scala e sulla massa della popolazione ci sono migliaia di persone che hanno patologie gravi che al momento che vanno in determinati posti o ai pronto soccorsi le patologie scompaiono perché a loro chi interessa che te paghi vuoi le 25 euro di ticket o paghi determinate cose entri all'interno dell'ospedale così l'ospedale prenderà poi i sordi dalla sanità perché l'ospedale ovviamente dice sì sono un ospedale ma te una volta pagato il ticket la sanità gli deve dare i sordi cioè lo stato deve dare i sordi all'ospedale per la visita che hai fatto perché il ticket non è che te fanno la visita gratis ti fanno a te la visita gratis ma la persona che fa la visita quello ti prende i soldi e li prende dallo stato come se noi andiamo a fare una lastra diciamo usa il ticket ho pagato 10 euro ah 10 euro sì poi quello prende i soldi va dallo stato e gli dice mi dà 200 euro perché ho fatto la lastra a questa persona questo è il giochetto ecco perché se stanno sbrigando per i vaccini vogliono comprare 500.000 vaccini prendiamoci conto siamo 70 milioni in Italia hanno già hanno già ordinato 500.000 vaccini pensate quanto costeranno tutti questi vaccini ma non avete visto le scuole stanno cambiando tutte le classi stanno cambiando tutto facendo questo ma non avete visto che fine fanno tutti i banchi nuovi tutte le sede nuove loro si hanno buttato tutto quanto tanto che gliene friga ma sto covid che dura la vita allora perché se loro buttano tutte queste cose che potrebbero essere importanti per un indomani o addirittura potrebbero essere gestite e vendute all'asta vendetele queste cose prendete i banchi nuovi prendetele vendete non hanno preso e l'hanno tutti distrutti e fatti buttare lì c'è un business e un sacco di soldi che entrano all'interno delle casse delle scuole è un bene in un certo senso ma alcuni presidi che sono stati intervistati hanno detto noi con tutti questi soldi non li abbiamo mai visti in 40 anni che stiamo dentro la scuola mai visti sono tutte manovre create a tavolino il coronavirus è una manovra creata a tavolino dal nuovo ordine mondiale hanno deciso come quando dove doveva accadere questo come impoverire determinati stati e arricchire altri determinati stati come creare determinati vaccini e come creare determinati vaccini che servono per creare una lobotomia chimica a far sì che il nostro cervello venga bloccato per far sì che non possa il nostro cervello evolversi per rilevare l'alta tecnologia il controllo e lo spionaggio della popolazione italiana oppure della popolazione mondiale questo è il loro giochetto vi lascio la mia email vittime di controllo neurale chiocciolagmail.com vi lascio il mio account pubblico di facebook emiliano babilonia italia su facebook oppure se mi volete contattare tramite messenger emiliano babilonia italia messenger non vi iscrivete agli altri canali emiliano babilonia non vi iscrivete emiliano babilonia perché quello è un account che io tengo riservato solo per determinate comunicazioni importanti da persone che collaborano con me per determinati tipi di ricerche per le conferenze eccetera eccetera tutti gli altri mi potete chiedere l'amicizia su emiliano babilonia italia account pubblico oppure su messenger in l'obabilonia italia gli altri canali io cerco di utilizzarli poco perché se no diventa un lavoro immenso seguire tutte le persone che mi scrivono ci sono molte persone che mi scrivono che mi scrivono nei gruppi dei gruppi dei gruppi dei gruppi no se mi dovete scrivere scrivermi direttamente su message emiliano babilonia italia oppure tramite mail che è più semplice vittime del controllo neurale chiocciola gmail punto com voglio ricordare il mio blog vittime del controllo neurale satellitare blog spot il mio secondo blog satelliti sfia blog spot ringrazio tutti abbiamo superato quasi un milione e cento e passa milla visualizzazioni a livello mondiale il mio blog vittime del controllo neurale satellitare blog spot sta superando le 400 mila visualizzazioni a livello mondiale e vi ringrazio a tutti so che siete più di 12 mila che seguite il mio canale di youtube angeli custode mk oltre italia mi dispiace di quello che è accaduto che i servizi segrete viati hanno bloccato i vostri account oppure vi hanno cancellato dal mio canale angeli custode mk oltre italia però purtroppo quando si parla di determinate argomentazioni bloccano le persone sui canali o blocca i canali quando invece si parla di altre cose non li bloccano pensate il mio secondo canale che è emiliano babilonia dove si parla io metto solamente le interviste importanti gli avvenimenti importanti quel canale nessuno si è mai cancellato ma guardate che strano e le stesse persone che sono iscritte a angeli custode mk oltre italia al canale di youtube sono le stesse persone che si sono iscritte praticamente a emiliano babilonia fatalità sull'altro non le hanno cancellati su questo le hanno cancellati e questa è una cosa veramente strana o addirittura quando c'è l'indirizzazione di determinati video che devono essere messi in prima linea cioè devono comparire per primi perché sono gli ultimi video che io ho postato li fanno scomparire o addirittura non li fanno comparire per niente o passano giorni prima che compaiono vuol dire che i servizi segreti deviati si mettono lì si studiano bene quello che io dico e dopo vedono se possono bloccare il video oppure mandarlo in onda sui canali di youtube perché ovviamente io ho scelto youtube ma sto aprendo anche altri canali anche su twitch perché sono importanti le divulgazioni multiple su vari tipi di canali e vari tipi di divulgazioni in tutte le parti del mondo quindi potete prendere i miei video pubblicateli dove vi pare in qualunque tipo di canale basta che mettete il link per far scrivere le persone sul mio canale di youtube mettete ricercatore Emiliano Babilonia canale di youtube e mettete il link basta vi chiedo solamente questo poi potete prendere il link fare copia incolla e metterlo sui vostri sui vostri canali io non ho nessun problema nel fare la maggiore divulgazione se volete prendere addirittura le interviste testimonianza fate come volete basta che mettete che il canale è Angeli Custola MK Portitalia e mettete il link per far iscrivere le persone al canale vi chiedo solamente questo qui perché più siamo più c'è divulgazione e più abbiamo la possibilità di arrivare alle vittime del controllo mentale che gli fanno credere che sono pazze e malatelemente e molte di queste si vanno a suicidare perché credono questa cosa dice oddio sono diventata pazza oddio sento le voci oddio ho questi disturbi oddio ho queste patologie oddio come vivrò la mia vita così da immarginata da pazza con tutti questi disturbi allora mi ammazzo quelli prendono e si ammazzano invece no noi gli dobbiamo spiegare che quelle non sono vittime non sono pazze e non hanno problemi psittici fisici e psicologici ma sono solamente cavie umane sottoposta ad esperimenti militari di mafia militare e terroristi militari e devono essere aiutate recuperate fatte entrare nei gruppi per far sì di farli rinforzare e farli diventare la futura resistenza la futura sicurezza nazionale un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia grazie a tutti grazie a tutti